benvenuti su espero channel oggi parliamo della modalità di gestione degli elementi quando andiamo su questo menu abbiamo due opzioni di lavorazione che sono uno modellazione uno oggetto queste due modalità nascono come indicano anche le icone una per la modellazione una per la modalità gestione oggetto per l'animazione infatti vedete qua sull'icona che c'è il simbolo della striscia di pellicola perché è importante distinguere quando lavoriamo in modellazione e quando in animazione se io animo un oggetto e lo animo in modalità di modellazione ad esempio cambio la scala che è una cosa che sarà evidente come effetto quindi cambio la scala del mio oggetto in realtà quello che sto facendo è cambiare la scala a livello di modellazione quindi ciò che lui memorizza è solo ciò che è un cambiamento sulla modellazione dell'oggetto infatti se lo seleziono vedo che si è animato il raggio della mia sfera ma non la struttura di per sé cioè l'asse di lavoro dell'oggetto non è cambiato perché è importante perché anche se mentre io lavoravo vedevo cambiare il mio elemento imparentato cioè il piano questo non si è animato al contrario torniamo indietro se io lavoro in modalità oggetto quindi lui registra per l'animazione i cambiamenti vuol dire che nel momento in cui andrò a cambiare il mio oggetto non cambio più il raggio dell'oggetto ma cambio l'asse dell'oggetto quindi se io scalo non solo scalo per l'asse e quindi a seconda di ciò che vado a scalare e deformare creo una deformazione sul mio oggetto sull'asse su cui sto lavorando ma questa deformazione viene traslata e riportata anche ai suoi figli perché essendoci una trasformazione dell'asse e non dell'oggetto quello che ho trasformato non è più la geometria del mio oggetto ma l'asse e quindi di conseguenza ha deformato tutti gli altri elementi è fondamentale quando noi lavoriamo ricordare di essere in modalità di modellazione mentre gestiamo il nostro oggetto perché agiamo sui punti bordi e facce oppure sulle proprietà stesse del nostro oggetto quindi ad esempio quello che mi cambia in modalità oggetto è il raggio della mia sfera mentre in modalità oggetto lui lavora solo sull'asse quindi non abbiamo più trasformazione del raggio ma trasformazione dell'asse originale quindi sono proprietà che possono essere anche trasmesse da un elemento all'altro da padre a figlio questo è uno dei mille trucchi che potete imparare durante un corso espero